Mister, è una vittoria che non è arrivata, auspicavano tutti questi tre punti, anche se non erano fondamentali, però insomma, cos'è non è andato? No, scuola ha fatto una buona partita, abbiamo sbagliato, sono stati un po' attenti, poco reattivi nell'occasione del gol, però abbiamo compilato delle altre occasioni e abbiamo vestito discretamente bene la partita, nel secondo tempo abbiamo alzato anche a ritmo, non sono riusciti a fare il gol e purtroppo nell'occasione che abbiamo subito il primo tempo abbiamo subito il gol. Sono arrivati due pareggi e una sconfitta comunque in queste tre cari di Champions casalinghe, è un caso perché sono figli di partite diverse o comunque una tendenza che andrà invertita di qui in poi? No, e va invertita anche perché ora giochiamo due partite o dentro o fuori, quindi bisogna cercare di migliorare, ma bisogna cercare di migliorare anche il campionato a domenica, bisogna cercare di cominciare a non prendere i gol e per il fatto di questo bisogna arrivare anche le squadre, non sono contento di quello che hanno fatto i ragazzi. C'è una squadra che in modo particolare non volete incontrare in realtà? No, no, tanto siamo le allunne, chi ve da fuori incontreremo. Presidente cosa vi ha detto negli spogliatoi e anche questa mattina nella visita prima dell'allenamento? Il Presidente è sempre molto carino, soprattutto molto carico, è solo un bene che mi ha dato spesso. Immagino che vogliate fare questa competizione anche l'anno prossimo, il terzo posto può essere ancora raggiungibile? No, in questo momento siamo lontani, in questo momento l'obiettivo è Torino, poi abbiamo la passata del turno di Coppa Italia che è l'obiettivo della stagione e poi dopo vedremo se riusciamo a prendere un po' di punti per chiudere il nostro giro in migliori modi. Oggi è zappato a Cerbero, una coppia inedita di centrali, al di là del gol comunque non abbiamo lasciato occasione agli avversari. No, hanno fatto una buona partita, c'è il primo e il secondo del primo tempo, zappato ha fatto una buona partita. Grazie.